Al prossimo incrocio girate a destra, proseguite in direzione di quegli abiti rossi, evitate i caprioli al centro della carreggiata e le mucche a lato, abbassate il finestrino, respirate il profumo del pane nero. C'è una terra che tira fuori il tuo lato umano, la Valle d'Aosta. Vieni a scoprire Fontenmore, Lilian, Perlo e Pombosè. Sarà un weekend lontano dai luoghi comuni. Info su lovevalledaosta.it